bambini tra pochi giorni sarà pasqua impariamo insieme delle nuove parole inglesi eister eggs easter eggs chocolate bambini chick barney spring flowers rainbow ma secondo voi come festeggiano la pasqua i bambini inglesi la mattina di pasqua quando si svegliano dipingono e decorano le uova sode guardate quanto sono belle queste easter eggs perchè non provate anche voi a dipingere le uova sode il giorno di pasqua un'altra attività molto famosa è la easter egg hunt che cos'è una caccia alle uova di pasqua i genitori nascondono a caso in giardino le uova di pasqua e i bambini devono impegnarsi a trovarle solo quando le avranno trovate tutte possono finalmente mangiarle non mi resta che augurarvi happy easter non mi resta non mi resta non mi resta non mi resta